hola mic sono alexander mic e vi farò vedere questa bellissima challenge dove noi dovremmo dove noi dovremmo risvegliare jamie ovvero the blood puppet the bloody puppet ovvero jamie e questo pupazzo assassino che mi è stato regalato nella realtà no però sì e dovevamo risvegliarlo esattamente qua sopra eccoci arrivati su questa terrazza e questo è il luogo di culto dove morire dove risveglieremo il pupazzo insanguinato dove sto indicando io andremo alla fine dell'episodio dove concluderemo il gioco qui qui solo qui soltanto qui e qui sarà il luogo di morte morte qui sarà ragazzi prendetevi i poccorn che risveglieremo il demone ecco il nostro the puppet dove lo risveglieremo dal sonno eterno se ci dà un segno di vita vuol dire che è vivo se non ci dà nessun segno di vita vuol dire che non è il pupazzo giusto e ricominciate la partita risvegliati la distruzione è tornata oddio si è mosso arriva ci sta riscrivendo il temore della fine del mondo ragazzi 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 di qua venite ragazzi ragazzi di qua venite ragazzi Dove dare, dove dare Dove andare, dove andare Proviamo di cuore Speriamo che il The Puppet non si evita Lo chiamo The Puppet o lo chiamo Jamie? Scrivetelo voi nei commenti Mi sto facendo piuttosto la paura Perché non sono mai venuto in questo posto Però piuttosto Avete sentito? Ok, via libera Veloci, saliamo prima che ti trovi Ok Stiamo facendo delle scale per andare alla casetta In alto che vi ho fatto vedere prima Poi scrivete nei commenti Cosa ne pensate di questo posto E fatemi sapere anche se vi è piaciuto il mio Il mio passo E se vi è piaciuto anche la challenge Mi raccomando Fatevi sapere nei commenti Mettete il pollicione in su Condividete E se dovete sapere che Il pollicione in su O i veri like Mi viene da molto felice Quindi se riuscite E grazie Solo grazie Eccoci arrivati Raga Siamo in alto Davvero in alto E il pupazzo dovrebbe farsi vivo esattamente alle nostre spalle Visto che non ce ne sono Io riesco Me ne vado via Perché mi fa un po' paura Questo posto Una bella visuale Ma fa paura Vabbè sembrava Ok ragazzi Ora posso anche salutarvi Arriva Ok raga Se questo video raggiunge Gli 8 like Facciamo così Così di sicuro lo farò Se raggiunge gli 8 like Farò anche un'altra versione Con Sadako Ovvero Samara Ma giapponese Che preferisco Ditemi Nei commenti Se preferite La persona Sadako O la bambola Sadako Scrivetemi nei commenti Ora vi saluto Ciao a tutti E buona visione Grazie Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti